Benvenuti a Motore Salute Europa. Oggi parliamo della Depur Art Lab Gallery e di come è importante il valore dell'acqua. Sentiamo Ornella Piluso, direttrice artistica di questa importante iniziativa patrocinata dal Parlamento Europeo. Che cosa ci dice? Che cos'è Depur Art Lab Gallery? Depur Art Lab Gallery è una galleria laboratorio, quindi non ha il compito solamente di esporre, anzi il fatto che espone è la logica conseguenza di un laboratorio che nasce lì all'aperto su una striscia di terra in cui gli artisti invitati pensano quale arte in un depuratore e su questa linea noi lavoriamo tutti gli anni, cambiando a volte anche quello che è il nostro progetto originale, perché fra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, quindi non è detto che noi arriviamo lì e siamo in grado immediatamente di applicare ciò che pensiamo di aver già progettato, ma sul luogo controlliamo esattamente le situazioni e quindi abbiamo questo grande vantaggio, un posto dove è una galleria, dove esponiamo, ma dove anche vengono a vedere coloro che desiderano capire come noi lavoriamo anche mentre stiamo lavorando. Spieghiamo bene come funziona questa mostra, è aperta al pubblico? Sì, la mostra è aperta al pubblico per i tre giorni chiaramente del festival ed è proprio questo il discorso, il festival porterà persone che scopriranno un posto magnifico come il nostro depuratore e soprattutto dovrà sollecitare anche altri depuratori a diventare delle eccellenze come il nostro. La galleria naturalmente è aperta anche su appuntamento altri giorni e farà anche degli altri interventi durante tutta l'estate. Ecco, ricordiamo che questa manifestazione è patrocinata dalla Commissione Europea, dal Parlamento Europeo, dalla Cariplo e altre realtà e coinvolge tutte le famiglie, le scuole, ma anche i centri di ricerca e le associazioni professionali. Potete parteciparvi il 6, 7 e 8 di maggio e si svolgerà a Nosedo in via San Dionigi 90 a Milano. Partecipate numerosi!